ecco maurizio ecco il cellulare allora il cellulare funziona? si ma io non sono convinto che fa questa cosa dai maurì maurì prendi qua apri togli la batteria via la batteria dai col WD40 e facciamo l'esperimento col cellulare dappertutto eh dai giù qua dentro. Sulla scheda? Soprattutto sulla scheda. Forza c'è poco rimasto sto signor WD40 non c'è regala niente, non c'era la birra che pagata solo ci siamo dovuti pagare, è la vergogna. Pulite qua, pulite qua, vai dappertutto, qui 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 i tasti i tasti qua ma qui c'è poco aspetta eh si viene 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 l'abbiamo fatto dappertutto? allo strutto va bene allora sui contatti della batteria vabbè a parte che qui vai 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 maurì vai i contatti della batteria tutta bella molla molla metti la batteria dentro il telefono vai vai maurì faccio st'inquadratura dall'altra parte qui guarda che artista che stavo st'inquadratura alternativa che si vede tutto ma comincia a prendere i capelli maurì prendi un po' di capelli oh lo so, questo è il fanzo questo è il fanzo e che insomma, voglio me lo chiede a me e dai allora allora accendi, accendi chiudolo? dai, chiudolo, chiudolo, facciamo proprio una situazione reale accendi il telefono aspetta, lo chiudo chiudi, facciamo proprio una situazione reale sta per cascare il telefono in acqua però il telefono è stato protetto con il WD40 guarda, lì, il prof. Terrato facendo quello eccolo qua, samsung samsung, scusate non mi inquadravo perché stavo no, no, che qua, che qua qua, non è accesso no, no, no è accesso, non è accesso oh, oh, è acceso ancora è acceso è acceso, si illumina lì nel cesso ma adesso vi diranno che c'ho il water con l'acqua incredibile guardate, guardate è ancora acceso è ancora acceso è ancora acceso ma vedi ma vedi ma vedi guarda che è pazzesco però si è bloccato sul samsung non riesce ad andare avanti dai, la sciacquata e eccolo che si è acceso il telefono è pazzesco passiamo la sua ritorno funziona funziona meglio di prima meglio di prima grazie a tutti